Forza e coraggio al comando della classifica dal campionato di promozione G1-D dopo la vittoria contro il PSG per 2-1. I grigi ora pur appariati a San Mauro e Spartac si confermano i veri protagonisti del torneo. L'eccellenza insegue l'altra classifica, la Valenzana Amado, vittoriosa nel derby contro l'Ovadese, realizzata nel finale. Gli ovadesi incappano quindi in due sconfitte consecutive, perdono terreno immeritatamente e sono attesi domenica da un'altra trasferta. Chi può esultare è nel basket il Dertona, che sia in campo maschile che in quello femminile continua a macinare vittorie. La formazione di Walter De Raffaele infatti ha battuto anche il banco di Sardegna Sassari per 71-68 nella sesta giornata della Serie A. Una vittoria molto importante perché arriva alla fine di una settimana durissima con due trasferte ravvicinate, ha dichiarato coach De Raffaele. Era una gara che temevo sia per il valore di Sassari che sono sicuro che saliva in classifica e ci ha messo in difficoltà, che per la nostra disabitudine mentale a tenere duro quando c'è un dispendio di energie fisiche importanti, come quello sostenuto nei due viaggi a Trapani e Lisbona. Abbiamo avuto un attacco molto sterile, però abbiamo contenuto in difesa il loro talento e vinto diversivamente, centrando il terzo successo in una settimana. In campo femminile l'autospetta del Dertona conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie A1, spugnando il Palazzaule di Battipaglia. La squadra, allenata da Coutugno, conduce l'incontro per larghi tratti, piazzando il bretto decisivo nel terzo quarto, grazie ad una grande applicazione difensiva e soluzioni efficaci in attacco. Il margine accumulato nella frazione consente alle giraffe di respingere i tentativi di rientro avversari e ottenere due punti. In Serie B torna alla vittoria il Monferrato Basket, che ha battuto a 39.65 il Bacchery Basket Piacenza. Per la pallavolo dopo le due vittorie è arrivata la prima sconfitta per la negrina Aquiterme. Salus Saroc non è quella che si è vista nelle prime due partite di campionato. Coach Totere lo ha detto prima della partita e purtroppo ne ha avuto la conferma, in maniera ancora più evidente di qualsiasi previsione, che sarebbe stato un'avversaria ostica con tanta voglia di rivalza e rospicabile. Ma nemmeno nella più nera delle ipotesi ci si poteva aspettare una debacle così, in trasferta in Sardegna, come dichiarato sul finale dal tecnico. La bollente è sembrata che non sia nemmeno scesa dall'aereo. Confusione, rovinatacco, in ricezione, in battuta è un risultato che purtroppo parla da solo. La formazione sarda fino ad oggi a secco ottiene così la prima vittoria sagionale davanti al proprio pubblico. In Serie C invece vittoria al tie-break per 3-2 contro il Vali San Paolo per la pallavolo bollente. Sconfitta per un soffio in Serie D la Redofrigo Aquiterme ad opera del pallavolo settimo torinese. Doppietta della nuova pallavolo che vince sia in Serie B che in Serie C. Le due squadre battono Valchisone per 1-3 e Saromenia per 3-1. In Serie B è successo all'esterno per l'acrobatica che supera il tie-break 3-2 l'alba. Per come si era messa la partita dopo il primo set stasera considero due punti guadagnati. Queste le dichiarazioni del presidente Andrea La Rosa. Noi abbiamo faticato un po' in ricezione e non abbiamo quasi mai trovato le contromisure sul gioco dei loro centrali. Alba si è confermata una squadra organizzata ben allenata. Partito.